In questo negozio sono cresciuta e oltre a essere, perché il negozio non è mio, ma lo sento mio, me lo sento come se fosse casa mia. È un lavoro dove ci metto la passione, dove ci vuole la passione. Ci sono sempre dei corsi di formazione da fare, ci sono sempre delle nuove colorazioni da provare, nuovi tagli, e comunque la cliente li richiede. Noi lavoriamo dal martedì al sabato con un orario continuato, dalle 8.30 alle 6 di sera, in modo da agevolare anche le clienti nella pausa pranzo. Cerchiamo comunque di accontentare tutte e speriamo che siano tutte soddisfatte.